e sono convinto che questo renderà la nostra democrazia, il nostro sistema istituzionale un sistema in grado di avere una politica più credibile. Credo che questo sia molto importante, credo che possiamo anche evitare di tradurre tutto ciò avverrò poi, al quale ho già ampiamente, io li ho già raccontato, quando con dei jeuneri insieme, tutta la questione di finanziamento del partito. Tu compri. Tu compri. Bene.